Omar Super in diretta dai Cubi, questo è il torrente dove faccio io il bagno, è veramente bello, l'acqua è pulita, questa è la diga come vedete, i Cubi, fantastico, io sono Omar Super, yes il vostro cameraman, che vi devo dire, la giornata è bella, il sole rende e l'abbronzatura procede da Dio, vi aspetto, venite a trovarmi ai Cubi, un bacio grosso, ciao!